E allora che si dice signor Emilio? Oggi primo gennaio 2013, auguri, auguri, il tuffo dell'augurio, della fortuna, forza, vediamo questo grande tuffo. Grazie, grazie, auguri, 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 auguri. Grazie, grazie. Grazie. E con questo tuffo vi auguriamo buon anno a tutti quanti, Giovanni buon anno, buon anno a tutti quanti, buon anno e concludiamo così. E che si conclude il tuffo della bellissima, auguri, auguri.